A costo di sembrare stupido, proverò da subito ad indagare su quello che dubito. Una frase importantissima per la mia vita a livello personale. Non mi scorderò mai quando l'ascoltai la prima volta. Ero giovanissimo e volevo indagare un po' sulla vita. Ero adolescente e nell'adolescenza si sta formando l'uomo che sarai, ma è ancora vivo il bambino e il giovane adulto, no? Perché comunque non sei più bambino ma non sei neanche adulto. E in quegli anni sei alla ricerca di un maestro. E chi è in cerca di un maestro poi si scontra con Bassi. Perché comunque ai tempi le tracce che ascoltavi quando avevi bisogno di crescere quali erano? Foto di gruppo, giorni matti appunto. Canzoni fondamentali per la nostra crescita personale interiore. E noi eravamo lì e pendevamo dalle labbra di questi personaggi. Io ricordo quando scrissi il primo brano che aveva delle... Metricamente era corretto, rime ben messe. E mia zia, insegnante italiano, mi disse Ma come hai fatto a scrivere un brano così tecnicamente giusto? E io dissi Guarda zio, ho ascolto l'hip hop. E l'hip hop italiano ai tempi era appunto scuola di vita. Non a caso il rap si è preso tutto. Perché era il modo di comunicare migliore. Una poetica adatta a tutti ma così profonda. Sicuramente erano testi più importanti di quelli che erano i cantanti pop dell'epoca Con tutto il rispetto perché comunque era un pop di qualità Però era chiaro che questa roba sarebbe diventata un culto Anche per questo paese ci stavamo arrivando E noi che l'ascoltavamo non ci siamo stupiti Quando poi è accaduto quello che è accaduto ovvero il boom Certo che poi col tempo è tutto cambiato I contenuti, il modo di scrivere, il modo di rapportarsi alla base Però nessuno si può dimenticare quando partiva in play Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono Certe coscienze non si lavano Cos'è un mondo magico? Lo sa Dio se vorrei una pausa Lascio l'auto sulla strada e me ne vado Come Michael Douglas Che la gente che c'ho dietro è messa ancora peggio Mi volto, li guardo in faccia Lo leggo, proteggo Sono il difensore della squadra La vita paga Mi ci sono comprato un radar Una lirica Quella di Bassi Maestro molto diretta Poca poetica Ma tanta poesia sotto sotto E poi c'è una delle strofe più belle Più belle della storia proprio Quella di Ape Cioè ragazzi Vivo la vita coi mie squarci Momenti in cui forse non dovrei starci Mi godo di stralci e prospettive senza entrarci Puoi farci L'abitudine oppure lasciarci Puntando altri lidi Percorsi su cui buttarci Non farti Illusioni sul da farsi Ridicolo scontrarsi In sto mondo in cui è impossibile orientarsi Si può darsi Si ha già ora di rassegnarsi Finora c'è ancora Chi ha speranza Su chi aggrapparsi Cioè ragazzi Avete sentito Proprio le accentazioni Il tono I giochi di parole Le assonanze Le dissonanze Cioè Questa strofa è un capolavoro Perché In questi incastri C'è proprio La vita appunto Spiegata La tristezza Beh ragazzi Che dire Poi ai tempi C'era anche Mister Zampini Che stava uscendo con un disco La tortuosa via Per Bisanzio Mamma mia Mamma mia Cioè io Sto rabbrividendo Solo al pensiero E allora Non posso che dire Oggi Dopo aver ascoltato Questo podcast Se avete tempo Riprendete questi brani Riprendete questi dischi Lasciatevi cullare Perché in fondo Passano gli anni Ma siamo ancora I quattro ratti Tra mille gatti A far saltare I vostri patti Perché Giriamo ancora Tra gli anfratti Persi tra gli sbatti Prigionieri Di sti giorni matti Oggi Più che mai Più che allora Io non posso che dire Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti